Parliamo ora di sviluppo sostenibile, tema di stretta attualità oggi ma non negli anni da cui parte il libro Sindacato Ambiente Sviluppo di Luigi Piccioni che abbiamo il piacere di ospitare oggi in studio, originario di Avezzano, professore di economia all'Università della Calabria, il libro ripercorre il ruolo che la CGL ha avuto nelle origini della riserva Montegenzana Alto Gizio ma un po' più in generale spiega come, proprio in Abruzzo si è stato superato uno stereotipo tipico del Sindacato quello per cui la tutela dell'ambiente freni il lavoro e invece non è così. Sì certo, la CGL prima di Sumona poi abruzzese negli anni dal 78-79 fino alla metà degli anni 90 prese questo modello impostato nel Parco Nazionale d'Abruzzo a partire dalla fine degli anni 60 e ne fece una grande vertenza regionale per la crescita delle aree interne e per l'occupazione in zone che già allora si stavano marginalizzando. Possiamo dire che fu un'intuizione perché poi questi temi sono tornati alla ribalta molti anni dopo, decenni dopo. Una doppia anticipazione. Nel Parco d'Abruzzo della gestione tassi fu anticipata l'idea dello sviluppo sostenibile che sarebbe diventata diffusa negli anni 90 e dagli anni 80 in poi la CGL fece proprio, con anticipo rispetto alla CGL nazionale al Sindacato nazionale, questo tipo di impostazione. Il percorso è iniziato allora, cosa ha portato e su che strada dovrebbe proseguire? Allora, intanto ha portato alla creazione di una regione che centra molto della propria identità e anche una parte consistente della propria economia sulle aree protette. Questo è un risultato storico importantissimo di cui noi siamo eredi. Ha portato anche a un'impostazione generale, ha contribuito molto per esempio alla legge 394 del 1991 di cui la CGL Abruzzo fu una promotrice molto importante e quindi sono risultati che rimangono fondamentali non solo per l'Abruzzo ma anche per tutto il paese. Pochi secondi, a chi consegniamo questa eredità? Io spero che la consegniamo ai giovani perché è un'eredità in gran parte dilavata, sfilacciata come mostra per esempio il caso dell'impossibilità di arrivare alla costituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina a causa dei ritardi sia del Ministero che della Regione Abruzzo. Per cui se i giovani non si fanno carico di questo grande sforzo, temo che è un'eredità che si. Grazie, grazie per essere stato con noi.